Eccola qui l'etapa odierna, siamo partiti da qua, adesso vi dezoomo un bel po', siamo saliti su tutta quanta la 1, tutta quanta la 1, abbiamo attraversato questa spiaggia con 1500 fiumiciattoli misti, abbiamo comunque risalito, poi siamo scesi, siamo scesi, 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 scesi e poi su ancora costeggiare tutto quanto questo vulcano qui che vi faccio vedere la dimensione di questo vulcano, non ho più bracci per farvelo vedere, comunque lì, da qui siamo risaliti, siamo risaliti, risaliti sempre di qui, paesaggi molto belli oggi, risaliti risaliti, abbiamo pranzato a Hufn e qui è cominciato quel vento mostruoso e qui era veramente difficile guidare, guidare proprio molto 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 difficile e sul più bello quando abbiamo fatto questo promontorio qui sembrava che il vento fosse si fosse calmato e appena siamo abbiamo doppiato questo capo niente, fine, incubo e quando siamo arrivati qui non c'è 73 km all'ora, adesso siamo esattamente qui in hotel grazie alla macchina siamo arrivati qua e domani mattina cerchiamo di vedere com'è il vento, le previsioni non sono delle migliori danno ancora 73 nodi, è chilometri all'ora domani, sempre in questo punto qua di questa valle che scende da queste due montagne qui che sono molto alte, qua si incanala e quindi qua il vento proprio accelera ed è l'unica zona che supera i 70 km all'ora, il resto qua intorno è 50 quindi non è che sia poco, ma almeno è gestibile, 73 sono veramente tanti, non ho mai provato una roba così, e vabbè andiamo